Si è tenuto a Lecce presso l'Otel Tiziano il tanto atteso congresso provinciale di Fratelli d'Italia, un evento di grande rilevanza per il partito di Giorgio Meloni. La mozione unica per la rielezione di Saverio Congedo come coordinatore provinciale ha suscitato grande interesse tra i tesserati e i rappresentanti delle amministrazioni salentine. Presenti anche gli esponenti di associazioni e ordini professionali, oltre ai referenti dei partiti politici e i leader. È un partito che è cresciuto molto negli ultimi tempi, quindi si deve dotare di una struttura organizzativa al pari delle percentuali del grado di consenso che il partito ha nel territorio, in Puglia e nel Salento. Sfioriamo percentuali del 30%, è giusto che l'occasione congressuale, al di là del dibattito e della dialettica interna, serva anche a definire una struttura organizzativa in grado di essere all'altezza delle percentuali di consenso e dell'azione che il Governo nazionale, guidato da una grandissima Giorgia Meloni, sta facendo. Atteso è stato l'intervento del Ministro per il Sud, Raffaele Fitto, il quale ha arricchito il dibattito congressuale con le sue riflessioni e prospettive sul futuro del partito e del Paese. Ministro, il congresso è un momento di confronto e raccordo per sentire anche quali sono le esigenze degli amministratori del territorio. Innanzitutto c'è un elemento molto importante che fa l'Italia, è tra i pochi partiti che nonostante la logica e l'organizzazione che oramai vede sempre più una organizzazione snella del partito, invece punta molto al radicamento e questi congressi sono un segnale molto chiaro in tale direzione e serve sia per selezionare una classe dirigente sui territori per formarla, per leggere le esigenze specifiche di ogni singolo territorio e soprattutto per comunicare sempre meglio l'azione che il governo Meloni sta facendo da oltre un anno a questa parte e soprattutto i risultati che accompagnano questa azione.